Milan Catanzaro, un classico del terrore. Il genere piace e i 167 milioni di incasso, roba da Coppa dei Campioni, lo dimostrano. Si temevano violente risse in campo e fuori, si sono puntualmente verificate e se Minicucci, oltre ad aver espulso Rocco, ha munito una mezza dozzina di giocatori, la forza pubblica ha avuto parecchio da fare sugli spalti, dove le regole dell'educazione e del buonsenso sono state per lungo tempo trascurate. Insomma, un pomeriggio caldo, nel senso meno sportivo del termine. Il Catanzaro, sconfitto con onore, lascia la Serie A, auguriamogli un'immediata risalita e diamogli atto di essersi battuto anche oggi lealmente. Il Milan, avete sentito il presidente Duina, è salvo o quasi, ma la sua stagione drammatica non è ancora finita. La voglia di far pace con tutti ha confuso anche oggi le idee dei milanisti, riemersi dalla palude soltanto in virtù di un'apprezzabile forza di volontà. Ed ora la sequenza dei gol. Il primo lo segna Silva in mezza rovesciata. Il secondo gol milanista, angolo di Calloni e Morini in corsa, spara una cannonata. terzo gol del Milan. Ancora angolo di Calloni, testa di cappello, intervento volante di Maldera e infine gol di Bigon. Ora la sequenza dedicata al Catanzaro. Punizione, batte arbitrio, devia Calloni ed è autogol. A due minuti dal termine ancora arbitrio con un gol molto bello dal limite dell'area. Due minuti di apnea per il Milan e poi la salvezza o quasi.